Siamo a Trofarello davanti allo stabilimento dell'AF Zust Ambrosetti, hanno in appalto il montaggio e la logistica per quanto riguarda il mobilio di Ikea. I lavoratori si sono fermati, le cooperative, le numerose cooperative che sono all'interno di questo appalto hanno mostrato difficoltà nel corso del tempo, dove siamo dentro noi, quindi dove sono sindacalizzate, siamo riusciti ad ottenere il rispetto del contratto collettivo nazionale, nelle altre continuano ad esserci dei problemi. La committente svuota le cooperative più sindacalizzate perché hanno un costo maggiore e girano il lavoro su quelle nuove con i lavoratori non sindacalizzati. Chiediamo rispetto del contratto collettivo nazionale, il ritiro immediato dei licenziamenti che queste cooperative hanno combinato da alcuni lavoratori per via del fatto che sono sindacalizzati. Chiediamo rispetto riguardo al decreto legislativo 8108, quindi in materia di salute e sicurezza. Siamo in questo momento in trattativa con l'azienda, non ci sposteremo di qua fin quando non porteremo a casa quello che sono le rivendicazioni dei lavoratori. Nel caso in cui questo non dovesse succedere, siamo pronti ad andare a fare un presidio davanti all'Ikea di Collegno. Sul volantino avete scritto che noi lavoriamo a domicilio con il sorriso, ma in questa situazione sorridere è molto difficile. Sì, è proprio vero, per quello che facciamo veniamo trattati come dei pezzenti e quindi non va bene, lavorare 12-13 ore e trattarsi così in questa maniera, magari adesso aspettano che ci fanno fuori a uno a uno come lo stanno già facendo, non mi sembra tanto normale. Non so più cosa aggiungere, adesso staremo a vedere cosa succede. Lavori, ti svegli alle 4-5 di mattina, vieni a caricare, ti trovi 12-15 consegni, a volte 2-3 carichi che devi ritornare. andare al quarto o quinto piano con i divani e vari mobili, poi ritrovarti il pomeriggio e di nuovo ricaricare e andare di nuovo è difficile. Per me non c'è poca organizzazione, è questo che lavori tanto, però devi essere anche un po' rispettato. Quando c'è lavori, fai chili e chili di roba, poi cosa vai a fare?